Prepariamo insieme i peperoni ripieni di patate con provola, speck, formaggio, uova e chi più ne ha più ne metta. Insomma una robina leggera leggera. Per fare i peperoni ripieni di patate iniziate con lavare i peperoni. Eliminate il picciolo, i semi e tagliateli a metà nel senso della lunghezza. Eliminate anche i filamenti bianchi. Adagiate le barchette di peperoni su una teglia ricoperta di carta forno. Aggiustate di sale e pepe. Aggiungete un filo d'olio. E con l'aiuto di un pennellino distribuite l'olio su tutta la superficie dei peperoni. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per 15 minuti. A questo punto schiacciate le patate bollite in precedenza con uno schiacciapatate. Raccoglietela pure in una ciotola. Aggiustate di pepe, sale, aggiungete il formaggio, l'uovo. Il prezzemolo tritato. E mescolate. Aggiungete anche la provola. O la scamorzo, la mozzarella e lo speck. O il prosciutto o la mortadella. Mescolate bene il tutto. Riprendete i peperoni dal forno e farcite con la farcia preparata. Belli, pieni, pieni. Che l'abbondanza non ha mai fatto carestia. Sistemateli nella teglia e farcite ancora. Procedete con la farcitura fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Se vi dovesse avanzare un po' di ripieno, non vi preoccupate. Preparate dei tortini. Aggiungete il formaggio grattugiato. Il pangrattato. Un giro d'olio. E infornate a 180 gradi ventilato per circa 30 minuti. Tutti a tavola. I peperoni sono pronti per essere serviti e gustati. Caldi e filanti. Buonissimi! Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.